L'ospite di oggi della rubrica Avrei voluto saperlo a vent'anni è un gran comunicatore che sembra uscito da una serie Netflix Altro che Don Matteo, eh Una persona che ha stravolto il modo di comunicare dell'istituzione che rappresenta Hai ufficialmente passato l'esame di recupero del catechismo Potrete amarlo, potrete odiarlo, ma sicuramente non potrete ignorarlo La Chiesa ha come unica missione quella di rimanere fedele a Gesù Tutti i problemi che sono nati sono problemi di mancanza e di fedeltà Alla propria identità Diamo il benvenuto all'influencer, allo youtuber, il prete Don Alberto Ravagnani Perché ho voluto Don Alberto nel mio format avrei voluto saperlo a vent'anni Perché io ti seguo praticamente da quando sei arrivato su Youtube E mi sono sempre detto ma guarda te questo ragazzo qua Che ha da comunicare il messaggio più antico del mondo Come riesci a comunicarlo bene con il mezzo più nuovo del mondo E quindi secondo me tu hai veramente dato un segno importante nel mondo della comunicazione A prescindere del tipo di messaggio che tu trasmetti e del tipo di scelta che hai fatto nella tua vita Tu sei secondo me un grande esempio di comunicatore Cioè tu potresti lavorare benissimo per la Coca-Cola E fare un ottimo lavoro Che in verità poi stai facendo per la chiesa E tutto quello che rappresenta anche appunto tutto quello che tu fai Quindi caro Don io grazie ti ringrazio per aver deciso di regalarci questo tuo tempo E ti lascio la parola Quali sono quelle cose che sai oggi ma che avresti voluto sapere a vent'anni Allora è grande Ciao Luca Grazie mille Bello tra l'altro questo esercizio di consapevolezza Quindi chiedi fare è decisamente molto utile Beh allora io parto dicendo che ho ventisette anni Ok Quindi vabbè Non dico che i vent'anni sono dietro l'angolo Però comunque non mi sembra di averli superati da moltissimo È anche vero che però questi ultimi sette anni Diciamo dopo i venti sono stati molto 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 intensi per me Allora io a vent'anni iniziamo a contestualizzare Ero in seminario Quindi questo grande posto tipo college americano Dove vengono messi quelli che vogliono diventare preti Che stanno pensando di compiere questa scelta Per cui tutto un grande percorso di consapevolezza Sei lì per capire se questa è la tua strada È la tua vita È la tua vocazione Per cui ero tipo al forse primo anno di seminario Cioè appena è entrato Quindi avevo lasciato la scuola superiore I miei amici I miei genitori Io a 19 anni sono uscito di casa Molto molto presto Cioè appena ho potuto insomma E sono entrato in questo mondo Che era un mondo nuovo per me Vivevo insieme a tanti compagni In un contesto dove c'erano delle figure educative forti Di riferimento Ed è stato veramente un cambio radicale Della mia vita E come tutti i cambi Ha fatto tanto bene Alla mia vita Però è stato anche abbastanza forte Perché E mi ha rivoltato come un calzino Essere entrato in seminario Se devo dire Qual è quella cosa Che avrei voluto sapere A quell'età È che Sì Io sono anche La mia storia Le mie ferite I miei problemi Ma non solo questo Cioè non sono la cosa più vera La più importante Perché Tutto il periodo dei seminari I primi anni I seminari in particolare Sono stati per me L'occasione Per mettere Proprio le mani Dentro il mio passato La mia storia La mia psicologia La mia Il male Che avevo dentro Insomma Un esercizio Di presa di consapevolezza Di tutte le cose che Ecco Non mi piacevano Di me Però A un certo punto Mi sono proprio reso conto Che l'ho fatto In maniera Quasi Non dico paranoica Il seminario Permetteva anche di Intraprendere Percorsi psicologici L'accompagnamento Di consapevolezza Molto utile Cioè Mi hanno fatto davvero Tanto bene Però Ad un certo punto Ho quasi rischiato In qualche modo Di pensare Che La mia vita Fosse tutta Una sorta di conseguenza Di Eventi Più o meno Negativi Che mi erano Capitati in passato O ferite Che mi portavo dentro O limiti O carattere Cioè Dato che sono così Dato che ho Queste difficoltà Dato che è il mio carattere Di questo tipo Allora io sono così E quindi A un certo punto Poi ho pensato Mi immaginavo Pensavo alla mia vita E dicevo Bene Se sono così È perché Mi era successo questo Se faccio così È perché Ho avuto quella difficoltà Se questo è il mio carattere È perché In qualche modo Mi limitavo Io Pensando che la mia storia Mi condizionasse A tal punto Da In qualche modo Condannarmi Ad essere in un modo E non in un altro Mentre Poi ho scoperto Che io sono anche La mia storia Ma non sono solo La mia storia Cioè io sono libero Di fronte Alla mia storia E la consapevolezza Più grande Che uno può Avere nella vita Non è tanto quella Che lo porta a capire Come è Ma è quella Che lo porta a capire Che Può decidere Come stare davanti A quello che è Ok Certe cose Non le possiamo cambiare Non le potevo cambiare Del mio passato Certo Potevo decidere Di starci davanti In una certa maniera Non vedendole Come una condanna Una zavorra Un peso Un limite Ma magari come Un punto di partenza Un punto di forza Addirittura Ciò che mi rendevano Bello Me stesso Cioè Ce l'hai un esempio Ce l'hai un esempio Magari pratico Per contestualizzare la cosa Chiaramente non credo Che sia facilissimo Perché sono cose Anche molto Magari introspettive Però magari un esempio Potrebbe Potrebbe aiutarci Allora Ad esempio Io Il mio carattere È quello di una persona Tutto sommato Un po' Timida Io sono timido Di carattere Di indole Che detto oggi Fa un po' strano Perché uno Non se lo aspetta Però posso 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 essere d'accordo Cioè io sono Sono timido Di carattere Però prima ero Forse non solo timido Era un po' proprio bloccato Cioè È come se Fossi timoroso Intimorito Ecco Di fronte agli altri Perché Boh Forse non mi fidavo io Di me stesso Perché pensavo di essere Sempre meno degli altri Notavo più I miei difetti Piuttosto che i miei pregi Non mi piaceva Mettermi in mostra Davanti alle persone Così E O meglio Avevo un carattere Cioè Me ne sto per fare le mie Cioè quando sono in mezzo Alle persone Non sono quello che Fa partire lo show Non sono l'animatore turistico Non sono Quello che fa cabare Non sono l'anima della festa Quando sono in mezzo alle persone Sono quello che Sta nel suo Se viene interpellato Parla E magari quando parla Poi si fa sentire Però Questa roba A un certo punto La vedevo come un limite Come un problema Allora io sono timido Io non Non so Non ho niente da dire Mi sentivo in difetto Rispetto agli altri Questa roba qui In realtà Non era assolutamente Un problema Cioè ero io E dovevo semplicemente Riconciliarmi con questa cosa E Anzi Magari rendermi conto Che gli altri Non è che Mi volevano bene Perché Mi avrebbero voluto bene Nel momento in cui Io sarei stato Quello super estroverso L'animatore Di ogni Circostanza Quello che aveva sempre La battuta pronta Ma perché ero me stesso Certo Questa cosa l'ho scoperta Quando poi sono diventato prete E Io mi sono dovuto mettere Davanti a dei ragazzi Che sono diversi Perché ognuno ha il suo carattere Il suo percorso C'erano quelli Super estroversi Quelli molto Introversi Quelli timidissimi Chiusi Quelli invece super espansivi Che devi dire lì Sei calmo E E mi rendevo conto Che Cioè io Da educatore Da prete Non è che volevo più bene O Mi preoccupavo di più Solo di quelli che Si agitavano di più Ma pure quelli Che stavano Nel loro Perché Perché vedevo Che c'era del bene Che il loro carattere La loro personalità La loro unicità Mi piaceva Così com'era Mentre su di me Questo discorso A vent'anni Facevo un po' fatica A concepirlo E questo Secondo me È un po' Condizionato Perché Mi ha fatto perdere Un po' di occasioni Relazionali Cioè A volte Non mi godevo Le relazioni Le circostanze Perché ero più preoccupato Di Guardare a me stesso Come stavo Davanti alle persone Piuttosto che alle persone Discussione Ti facevi un'idea Ti facevi un'idea Di come potevi essere percepito Invece semplicemente Di viverti la situazione Esatto Un sacco di menate Ok Un sacco di menate Riassume bene Questa cosa Sì Mentre invece Adesso Ho scoperto Che Che queste menate Sono proprio una tentazione In realtà Che sono il contrario Della relazione Perché ti portano a Concentrati su di te E non guardare l'altro Che è la vera occasione Che hai davanti All'altro Poi magari Non gliene frega Assolutamente niente Di quello che ti dà fastidio A te Anzi Magari All'altro Interessano proprio Quelle cose Che gli danno più fastidio Ad esempio Io avevo un compagno Allora Io Adesso Magari Il mondo Dei social Mi conosce come Don Alberto Il comunicatore Bla 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 Eccetera eccetera Io prima Non è che Non sapevo di essere Capace di fare queste cose Francamente E invidiavo La capacità Comunicativa Dei miei compagni Ok Tu pensa E Volevo essere Perfetto Eccetera eccetera Però Ricorcevo anche Che volevo Un sacco di bene E stimavo Tantissimo Certi miei compagni Seminaristi Che invece Erano pieni Di difetti Ma pieni Che Stavi con loro Ti pisciavi da ridere Perché Cioè Era bellissimo E però Loro Non si facevano Problemi Erano felici Per essere Così Ok E io pure Perché Non avrei cambiato Un singolo difetto Di certi miei compagni Perché era proprio bello Stare con quella persona Perché era in quel modo E Mentre Questo discorso Con me Non riuscivo a farlo Ecco Secondo me Questa è quella cosa Che io avrei voluto Proprio sapere Qualche anno fa Bello Mi piace Off topic I tuoi compagni Di seminario Li senti ancora Hai mantenuto rapporti Alla fine È una scuola È una scuola Normalissima Immagino È di più È proprio una famiglia Ok Che si crea Perché tu vivi Con loro H24 Per anni E condividi tantissimo Cioè Tutti i momenti Della vita Li condividi con loro Infatti Tra preti Noi ci chiamiamo Diciamo così Con fratelli Non siamo colleghi Ok Siamo di più Insomma C'è un rapporto Proprio di familiare Hai anche il gruppo Whatsapp Con loro Certo Abbiamo addirittura Due gruppi Whatsapp Quello Quello per gli intimi Come a scuola No no Come a scuola Come a scuola Allora In seminario C'erano chiaramente Le figure istituzionali Il rettore Ok Quindi c'era il gruppo Con il rettore Ok Però tutti i seri Chiaro E poi cacciara Cavolate Battute Insulti Cosa E sono rimasti Anche adesso Bene Mi è piaciuto molto Questa cosa Che effettivamente Non avevo mai pensato Ma è un qualcosa Della quale Adesso Mi hai fatto pensare Ho sofferto Anch'io Nel senso Che Anch'io Ero timidissimo Da giovane E spesso Teorecchio No no Questa Questa è in assoluto Quella principale Bene 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 Senti Invece Dato che comunque Io Come ti ho detto Ti seguo Fin dall'inizio E mi ricordo Di una libreria Le tue spalle Nei primissimi video Ma tornerà 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 Wow Questo mi fa molto piacere Perché proprio in questi giorni Che creavo l'intro Per questa tua intervista Ho detto Cavoli però Don Alberto È un po' che manca Da YouTube Vecchio stile Allora posso dire una cosa Faccio un piccolo Spoglierino Annuncino Che sono stato occupato Da un altro progetto Molto molto grande Che uscirà Nelle librerie Diciamo Ecco Per non dire cose Per non dire cose Esatto E quindi Non ho avuto tempo Di dedicare i miei video Ma adesso Questo progetto Lo stiamo concludendo Tornerò anche Su YouTube Bene E appunto Dicevo Mi ricordo questa libreria Quindi la domanda È d'obbligo Qual è Il libro Che porteresti Con te Su un'isola deserta Qual è il libro Che ogni tanto Rileggi Attenzione Non vale la Bibbia No In verità vale In verità Vale anche la Bibbia Ero pronto Capisci Ero pronto No 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 Vai vai Sei liberissimo Allora No 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 A parte A parte la Bibbia A parte il Vangelo Che ormai me lo porto Nel cuore Diciamo No Il libro che mi ha cambiato La vita In ordine cronologica Forse prima del Vangelo È stato Il secondo libro Più letto Barra stampato Barra tradotto Il mondo Dopo la Bibbia Che è Il piccolo principe Don Adesso capisco Perché ti voglio bene Sai che è uno Sai che è uno Dei libri Che a me Ha cambiato Proprio la visione Del mondo Come mai Questo libro Allora Questo libro L'ho legato A tante Tante esperienze Significative Che ho vissuto In adolescenza Alla fine In adolescenza Che in realtà È entrato un po' Nella mia vita In corrispondenza Anche con Con Dio Allora Antoine de Saint-Exupery L'autore del Piccolo Principe Non era credente Ratio Però Secondo me Nutriva Un profondo senso Del divino Che traspare chiaramente In tutto quello che fa C'è tanto di senso religioso Nella vicenda del Piccolo Principe Quel libro Mi ha proprio Aperto il cuore Perché È un libro Una favola forse Una favola Che è capace di interpretare la vita Che magari viene snobbata Come il libro per bambini In realtà è un libro per adulti Il Piccolo Principe Dice di cose profondissime Parla di temi pesanti Parla di morte Parla del senso della vita Ci parla di quel bambino Che tutti quanti noi Forse siamo stati E magari abbiamo perso E ci piacerebbe ritrovare Che ha uno sguardo semplice E riconciliato Nei confronti della vita E che però Si trova in mezzo In un mondo Che in tutti i modi Tenta di Ucciderlo Di strappargli le cose Che contano di più Questo piccolo principe Che parte Per l'universo Alla ricerca della sua rosa Perché? Perché è l'unica cosa Che gli importa veramente E si trova a vagare In mezzo a mille pianeti Alla ricerca di questa rosa E incontra tanti adulti Che in realtà Sebbene loro pensino Di essere, non so, arrivati Hanno ben poco Da dire e insegnare A questo bambinetto Infine arriva sulla Terra L'ultimo pianeta Che è quello abitato Dalle persone più strane Dice il libro E lì E lì incontra appunto L'aviatore Che è il narratore Del libro E il narratore Incontra questo personaggio In qualche modo Si rende conto Che c'è tanto di sé In quel bambinetto Che trova Quindi è una storia Che si è legata Molto All'essenziale Io Ho trovato L'essenziale Della vita Il principio e fondamento Della mia vita È stata l'amicizia Io sono cambiato Nel momento in cui Ho trovato degli amici Veri La storia del piccolo principe Che è una storia di amicizia Fondamentalmente Mi ha dato la chiave Di lettura Per interpretare questa cosa Per accorgermi Che l'amicizia È l'essenziale Della vita Che si è felici Solamente quando si è amici E Questa cosa si è un po' legata Anche con il mio percorso spirituale Con la mia vocazione Che ho scoperto Quando avevo 17 anni Ed il libro È stato talmente importante Che ci ho fatto La tesina Della maturità Che dite Beh la tesina Vabbè Carino Bellino No no La tesina della maturità Per me è stato un libro Ho tirato fuori un libro Di 150 pagine Come tesina Ero pazzo Molto più lungo Del piccolo principe Del piccolo principe Esatto Ovviamente sì Ma perché I bambini Ci fanno essere Di più noi stessi Perché forse In maniera più autentica E genuina Conservano Costruiscono La verità Della nostra vita Che c'è Sempre Cioè la verità C'è Dentro di noi Però A volte Non sempre riusciamo A rimanerne fedeli Diciamo così E provando ad essere felici Facciamo dei gran casini E ci allontaniamo Da quella roba lì Quindi a volte ci capita Di guardare i bambini Provare tanta nostalgia Esatto Perché Perché ci rendiamo conto Che eravamo così Ok E un po' lo siamo ancora E però ci siamo allontanati Nel corso Delle vicissitudini Della nostra esistenza Guarda C'è un Un libro Non mi ricordo quale Dove Spiegava Come Riuscire a vivere Il momento L'attimo L'attimo Fuggente Il momento presente E diceva Se volete un esempio Di Come vivere il presente Guardate Dei bambini Che raccolgono Le conchiglie Sulla spiaggia Estremamente Concentrati Non puoi Distrarli Con niente Perché sono Concentratissimi Su quello Che stanno facendo Ed effettivamente Sono È un esempio Molto bello Che rende l'idea Di come funziona Un po' La psicologia Tra virgolette Dei bambini Che poi Nel tempo Perdiamo Perché cominciamo Magari a pensare Appunto Al passato Al futuro E Non siamo mai Ben centrati Quindi Bellissimo libro Quello lì Davvero Me lo Guarda Me lo rileggo Perché A parte che ne ho Cinque o sei copie Sparse da casa dei miei A casa mia Quindi Io faccio la collezione Lo sai? No Davvero? La collezione In ogni paese Che vado Acquisto L'edizione del piccolo principe Nella lingua Di quel paese Ma dai Bello Mi piace Questa cosa Senti Ultimissima domanda Per tornare Con i piedi Per terra Una domanda Un po' pratica Che faccio A tutti I miei intervistati Domani chiude Amazon Cos'è che Ragedia Cos'è che Ecco Esatto Io so che la usi Amazon Perché Ti ho mandato Anche qualcosina Ti ho mandato Gli integratori Ma ti rendi Che mi hanno salvato Dal covid Dal covid Pensa a te Vabbè Non è stato Grazie Sicuramente Agli integratori Ma molto più Probabilmente Le tue preghiere Hanno Aiutato O Semplicemente Il fatto che Sei giovane Sei in forma Chiude domani Amazon Qual è l'ultima Cosa che compri? Se io dovessi Proprio prendere Una cosa Perché chiude Amazon Comprerei Quella cosa Che magari Non ho mai avuto Il coraggio Di prendere Perché dici Ma mi prendo Ste cavolate Insomma Però Non dico Che è un sogno Proibito Però Per esempio Statuire Quelli che metti Statuire da cruscotto Quelli che si muovono Bello Io prenderei Gesù Versione statuina Da cruscotto Perché Adesso non avrei Il coraggio Di prenderla Capito Però Se dovessi Chiudere Amazon Promesso Promesso Che se la trovo Te la mando Te la regalo io Promesso Ti faccio Questa promessa Nel mentre Se dovesse esserci La trovate in descrizione Ragazzi Metto il link In descrizione Non vi metterò L'indirizzo Di Don Alberto Ma gliela mando io Don Don Grazie mille È stato molto bello Chiacchierare con te E insomma Spero di vederti presto Dopo che ti ho già visto A Milano Al Doncast Che è stato E niente Davvero Ti faccio i complimenti Perché Oltre Davvero A portare In maniera Estremamente nuova Il messaggio Più antico Del mondo Credo che Comunque Non sia facile Quello che stai facendo Perché immagino Che Se Uno youtuber Normale Ha già delle pressioni Addosso Immagino Che il peso Che tu hai Sulle spalle A portare Questo messaggio Sia Cento volte Maggiori Rispetto A quello Di qualsiasi Altro comunicatore Infatti Nell'intro Che tu Ancora non hai visto Ho detto Che Tu puoi essere amato Puoi essere odiato Ma Non puoi Essere Ignorato Quindi Vai avanti Così che Vai una bomba Wow Grazie mille Luca Davvero Ciao Don Un abbraccio Ciao Ciao Grazie di cuore Bella lì Don Grazie mille Bella chiacchierata Bella Bella Ma che bel format È molto carino